a dover raccontare puntata numero trecentonovanta sono le undici del nove febbraio duemilaventitré dagli studi di Aracne TV Palaperri in collegamento con noi Maria Letizia Faticati dirigente scolastico dell'istituto comprensivo Falcone Borsellino di Villavomano frazione di Teramo vivere e raccontare il programma televisivo ideato da Giochino Onorati Augusto Zucchi e oggi con la protagonista di questa puntata parleremo del mondo della scuola e della centralità dell'adolescente buongiorno professoressa buongiorno buongiorno allora io chiedo alla regia di mandare in sovrimpressione la pagina Beautiful Mind dedicata alla professoressa Fatigati e chiedo invece alla nostra protagonista quali sono le responsabilità che come dirigente scolastico si trova ad avere dunque innanzitutto ringrazio per questo spazio per questa attenzione al mondo della scuola in maniera assolutamente organica con una visione di sensibilità nei confronti dei nostri figli e delle nostre figlie che si trovano a vivere un momento formativo non del tutto semplice dunque parlavamo di responsabilità io vorrei subito esplicitare il sentimento con il quale ogni giorno cerco di portare avanti la mia professione io sono innamorata del sistema scolastico italiano e in generale di tutto quello che è al fianco che si pone al fianco dei nostri ragazzi e delle future generazioni credo molto nella scuola non sono mai uscita dall'ambiente scolastico finito il liceo mentre studiavo matematica sono entrata a far parte del mondo della docenza della scuola italiana e pertanto il suono della campanella mi ha sempre accompagnata ed è questo il modo con il quale cerco di vivere la la professione del dirigente scolastico la scuola prova a ricentralizzare il proprio il proprio ruolo e ricentralizzarsi nella vita delle nuove generazioni vuol dire da parte del preside garantire porsi a presidio di ehm una una serie di elementi che poi detteranno il futuro sano dell'intera nazione e con uno sguardo ancora più ampio eh della dell'umanità parlo della formazione alla cittadinanza parlo di una scuola incentrata sul dialogo sulle relazioni sulle esperienze da offrire quotidianamente ai nostri studenti una scuola che riesca ad accogliere e a e ad uscire dal proprio ambiente educativo per poter portare eh gli studenti a vivere eh la realtà scolastica in osmosi con la realtà circostante parlo di diritto allo studio parlo del recupero delle situazioni di disagio parlo di non lasciare nessuno indietro eh ogni docente ogni volta che apro un collegio soprattutto all'inizio dell'anno scolastico mi rapporto molto con con i miei docenti e cerchiamo di trovare tutte le strategie affinché ehm ciascun docente possa portare in vetta ogni proprio studente e e portare in vetta uno studente vuol dire a volte lasciarlo camminare da solo a volte sostenerlo a volte addirittura abbracciarlo e e quindi in questo modo eh ecco il carico di responsabilità che io mi sento è proprio quello di poter garantire a ciascun eh ragazzo e ragazza lo sviluppo di quella eh etica di quella moralità di quella energia eh personale che poi da potenziale possa trasformarsi nella cinetica della vita. Certo e quali sono i problemi maggiore che affronta e quali sono le possibili soluzioni? Beh le le problematiche sono sono tante ehm nello specifico del nostro istituto comprensivo forse la difficoltà è è legata alla eh alle dinamiche delle aree interne e periferiche della città di Teramo eh parlo talvolta di quel divario che va colmato eh e che la scuola ehm è chiamata proprio a colmare quindi situazioni di difficoltà e di disagio che spesso vedono i nostri studenti eh vivere mh all'interno di eh nuclei sanissimi ma che eh hanno ehm pochi input eh con sé riguardo proprio al mondo della cultura al mondo dell'educazione. Ecco forse questo è il il diciamo la difficoltà più grande proprio quella di eh riportare eh lo studente nella carreggiata scolastica affinché si possa veramente contrastare la ehm il fenomeno della dispersione. Una dispersione che eh spesso ehm non è solo esplicita nella sua ehm così ehm presentazione quindi eh parlo proprio di quella dispersione latente e quindi parlo di motivazione affinché il ragazzo e la ragazza possano la mattina svegliarsi con gioia e arrivare a scuola, una scuola motivante, una scuola che li li porti proprio a raggiungere quelle competenze necessarie affinché non ci sia poi quella dispersione implicita successiva ovvero raggiungo il titolo di studio ma non ho seriamente interiorizzato quelle competenze che poi mi permetteranno di avere il mio ruolo all'interno della società. Quindi futuri padri, futuri madri, future madri, futuri cittadini attivi in grado di eh strutturare il proprio spazio. E che ruolo ha il dialogo con la diocesi di Teramoatri? Beh eh la diocesi di Teramoatri ci ci sta insegnando ormai da qualche anno se posso permettermi da quando sua eccellenza Monsignor Lorenzo Leuzzi ehm è la guida eh della di questa diocesi e sta aprendo proprio a noi dirigenti scolastici l'ottica dell'accompagnamento educativo. Cosa intendo? Intendo proprio eh lo smusi di cui parlavo inizialmente cioè quella continuità orizzontale con il territorio che crea esperienza che crea riflessione. La diocesi di Teramoatri ehm spesso crea degli input educativi eh a livello locale, provinciale e regionale. Eh non ultimo eh l'anno scorso ehm siamo stati coinvolti da sua eccellenza Lorenzo Leuzzi in un percorso di eh seminari di studio che hanno messo al centro l'adolescente nel suo rapporto con il virtuale. Una delle tematiche era proprio questa e che ha sottolineato quanto il bisogno in pandemia del virtuale ha però talvolta creato disordine e allora proprio grazie a questo percorso della diocesi abbiamo avuto la possibilità di fermarci un attimo nelle varie realtà scolastiche di Teramo e di Atri e riflettere su come poter eh sostenere e accompagnare i nostri studenti nella riorganizzazione del proprio rapporto con il virtuale sottolineandone i punti di forza e nel contempo andando a mh interiorizzare ad abbattere i punti critici e di debolezza. E cos'è il PNRR? Eh il piano nazionale ripresa e resilienza. Io credo sia una opportunità preziosissima per la scuola italiana. Il ministro Bianchi che eh il lo scorso quattro maggio del duemilaventuno presentò alla settima commissione con giunta Camera e Senato quello che era il piano programmatico che ha anticipato il PNRR eh fu veramente incisivo ehm aprì il il suo eh piano programmatico con un'espressione a mio parere bellissima la scuola deve tornare ad essere il motore della nostra società e per far questo il PNRR ha stanziato importanti finanziamenti che rendono la scuola la strategia principale di ehm rinascita di ripresa e di resilienza per l'intera nazione italiana. Parliamo di eh diritto allo studio e quindi abbattimento di quelle che sono le tre principali disuguaglianze. Il PNRR eh affonda proprio le le sue radici sulla lotta a a tre disuguaglianze. Quelle territoriali di cui ho accennato prima quindi il divario di vita vissuta in un centro sviluppato a livello urbano e un centro meno vicino agli input culturali, agli input ehm educativi. Di vari territoriali accanto a questi eh il PNR il PNRR si pone al al lottare quindi al contrasto al alle disuguaglianze intergenerazionali quindi cercando di abbattere il gap che c'è tra le nuove generazioni e i più adulti riscoprendo quella che è l'importanza fondamentale per i nostri figli di eh conoscere, scoprire, interiorizzare quella che è la storia del proprio vissuto per poterla poi portare nel proprio futuro e nel contempo avvicinare l'adulto a quelle che sono le dinamiche ehm eh anche di mercato anche produttive della eh società attuale. E la terza disuguaglianza che il PNRR eh si pone eh come obiettivo da da diciamo da da contrastare è quella di genere. Eh e proprio qui mi permetto di eh sottolineare quanto sia importante eh anche su questo punto il ruolo della scuola. ehm il la linea di finanziamento del PNRR che abbiamo appena noi presidi stiamo eh sviluppando progettualmente è proprio lo sviluppo dell'ambiente educativo 4.0. Un ambiente educativo che ponga la donna insieme all'uomo protagonisti di una vita strutturata tecnologicamente e e e quindi avvicinare il più possibile anche la la figura femminile a quelle che sono le STEM quindi lo studio della delle scienze, della tecnologia, dell'ingegneria, dell'arte, della matematica e e anche entrare nell'ottica che eh le posizioni di vertice non sono eh solo una nicchia per il mondo maschile ma che eh nel momento in cui un welfare sociale riesce anche ad alleggerire la donna dal carico della famiglia e di tutto quello che porta con sé una scelta di vita appunto di nucleo familiare può dare la possibilità alla donna di raggiungere eh le le posizioni che un percorso di studio e di competenza eh possono offrire. Io la ringrazio per essere stata con noi professoressa Fatigati. Sono io che ringrazio voi eh spero di di essere stata così ehm capace di 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 trasferire eh a chi ci ascolta eh quanto la scuola ha bisogno di essere sostenuta nel nel ricostruire il proprio ruolo di priorità nella vita dei nostri figli. Eh una scuola che non sottrae del tempo ma lo aggiunge insieme allo sport, alla chiesa, a alle passioni di vita, la musica, tutto quello che messo come in un grande puzzle va a creare il futuro di democrazia, il futuro di benessere per i nostri ragazzi. Ehm vorrei chiudere con una riflessione proprio di sua eccellenza Leuzzi. Ehm la carità intellettuale. Ecco eh ho fatto tesoro di questo pilastro e in ogni mia firma cerco di racchiudere questo insediamento. Oltre alla carità cristiana, oltre a quella politica, c'è la carità intellettuale che a mio parere deve animare ogni eh protagonista della comunità educante della scuola italiana perché è questo che noi ehm dobbiamo avere come obiettivo principale, creare una comunità educante all'interno della quale ciascuno con il proprio ruolo ehm riveste una ehm un diciamo un un peso importante eh il preside, i docenti, il personale ATA, gli studenti, i genitori e tutto quello che è il mondo dell'associazionismo, il mondo dell'input culturale, gli enti locali che arricchiscono l'offerta formativa per aumentare il tempo scuola, per aumentare le possibilità di crescita dei nostri studenti proprio all'insegna di una carità intellettuale da avere in ogni nostra pagina di scuola quotidiana. Grazie di aver condiviso con questo insegnamento. Grazie a voi. E ringrazio anche i nostri telespettatori e do appuntamento alla prossima puntata di Vivere e Raccontare. Grazie mille. 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 Grazie.